Vi presento nuovamente quindi il nostro speaker di oggi, che ringrazio tantissimo, che sono appunto Federica Pressan di Luve, che ci parlerà, sarà la prima speaker di oggi, che ci parlerà, e tolgo la mia presentazione così almeno poi Federica può mettere la sua, interrompo, perfetto, che ci parlerà di Luve Group, ci parlerà il titolo di oggi è Refrigiazione commerciale, soluzioni per refrigeranti a 2L e propano, quindi continuerà in maniera sicuramente migliore della mia a parlare di questi nuovi refrigeranti e queste nuove tecnologie importantissime per i nostri tecnici. Nel frattempo abbiamo raggiunto gli 85 partecipanti. Grazie Federica che saranno con noi, buon webinar a tutti. Grazie a te Marco e buongiorno a tutti, benvenuti a tutti i collegati e un grazie particolare innanzitutto al Centro Studi Galileo che ci ha dato questa opportunità di essere qui con voi oggi. Un saluto ad Eric Venturi che interverrà dopo di me. Io sono Federica Pressan, Product Manager degli evaporatori commerciali all'interno del gruppo Luve. Come potete vedere dal titolo della presentazione, il tema su cui ci focalizzeremo oggi sono proprio le sfide che i refrigeranti a 2L e propano ci hanno presentato e le soluzioni che ha messo in campo Luve Group a questo proposito. Innanzitutto vi do qualche cenno alla presentazione breve dell'azienda. Luve Group è un gruppo internazionale di aziende presente nel mercato sin dal 1928 e siamo specializzati su scambiatori di calore per la refrigerazione, il condizionamento dell'aria e i processi industriali. Un po' più nello specifico, siamo presenti con i nostri prodotti sia nella refrigerazione commerciale e industriale, quindi nella conservazione e maturazione di prodotti alimentari freschi, nelle sale di lavorazione, processi di congelamento, centri logistici. Forniamo scambiatori per vetrine refrigerate, banchi frigo. Nel settore del condizionamento dell'aria, quindi HVAC, forniamo soluzioni di dry cooler per edifici residenziali ed industriali. Siamo presenti nel settore dei trasporti, delle pompe di calore e delle telecomunicazioni, pensiamo per esempio ai data center. E ultimo ma non meno importante, siamo operativi anche nel settore industrial cooling, quindi nel settore energia, con radiatori per il raffreddamento di fluidi di processo. Giusto per darvi qualche numero sul gruppo, contiamo circa 4.500 collaboratori qualificati e siamo presenti nel mondo con 17 siti produttivi e 34 sedi commerciali. Più dell'83% della nostra produzione è esportata in 100 paesi per un turnover consolidato di circa 610 milioni di euro. Questi sono i risultati dell'anno scorso. Per passare al tema di oggi è importante innanzitutto fare un cenno alla normativa F-Gas e alle nuove prescrizioni che essa ha recentemente introdotto. Come ben sapete i gas fluorurati, i cosiddetti F-Gas, sono dei gas serra altamente impattanti sul riscaldamento globale, che si può essere rilasciati appunto nell'atmosfera. Ecco perché a tutti noi è noto il famoso GVP che è questo indice di un refrigerante che identifica il suo impatto sul riscaldamento del pianeta rapportato alla nota CO2 che per definizione ha GVP1. Quindi se per esempio noi consideriamo l'R134A, esso ha un GVP di 1430, il che significa che se noi rilasciamo in atmosfera un chilo di R134A, esso ha un impatto in termini di contributo all'effetto serra pari a rilasciare 1430 chili di CO2. Ed è proprio su questo tema che si è recentemente espressa la comunità europea. All'inizio di quest'anno c'è stata una sessione plenaria del Parlamento europeo che ha approvato il nuovo regolamento F-Gas che porta ad avere delle prescrizioni ancora più stringenti. Nel testo si prevede infatti una totale eliminazione degli idrofluorocarburi, gli HFC, entro il 2050 e si traccia anche una traiettoria di graduale riduzione della quota consumabile all'interno dell'Unione europea da qui al 2049. Inoltre, rispetto al precedente regolamento 517-2014, questo nuovo testo limita ancora di più il valore di GVP soglia. Ecco che quindi il tutto è reso ancora più sfidante. Declinando il tutto all'interno della refrigerazione commerciale, in particolare considerando dei sistemi di refrigerazione fino a una potenza di 40 kilowatt, esclusi i chiller e apparecchiature autonome, il testo delinea due step. Un primo divieto di utilizzo di gas fluorurati con GVP superiori o uguali a 2005 a partire dal 2025, a parte alcune eccezioni, e un secondo step in cui si preclude l'uso di gas fluorurati con GVP maggiore o uguale a 150 a partire dal 2030. Ecco che quindi tutto questo porta inevitabilmente a considerare dei refrigeranti alternativi ai tradizionali HFC, tra questi c'è la ben nota CO2 o anche altre alternative come appunto gli A2L e il propano. Gli A2L sono dei refrigeranti caratterizzati da bassa tossicità, da un basso potenziale di riscaldamento globale e secondo la classificazione di sicurezza ASHRAE sono caratterizzati da una lieve infiammabilità. Dall'altra parte troviamo il propano che è invece un gas naturale, è un gas già noto nel mercato, lo troviamo anche nei refrigeratori domestici, nei condizionatori portatili ed è caratterizzato da un elevato potere frigorigeno. Ed è molto in linea con le nuove direttive del nuovo testo del regolamento FGAS in quanto ha un GVP pari a 3 e un ODP pari a 0. La sua caratteristica importante da considerare è che è classificato A3, quindi infiammabile. Vediamo ora come questi nuovi refrigeranti impattano sulla progettazione e la produzione degli scambiatori di calore, le soluzioni che l'UVE ha messo in campo. Nel momento in cui si va a considerare un refrigerante A2L e propano ovviamente è importante avere in mente la descrizione di pericolo che secondo la EN 60079 definisce che qualsiasi punto di discontinuità lungo il circuito può rappresentare una sorgente di emissione, la quale viene definita sorgente di primo grado nel caso in cui il deterioramento dipenda da una tenuta di tipo non fisso, pensiamo ad esempio ad un rubinetto che si apre. Mentre la sorgente di emissione è classificata di secondo grado quando l'emissione è determinata da un guasto, da una perdita, da un trafilamento che può avvenire da un raccordo o da una giunzione di tipo fisso. Nel caso dello scambiatore di calore questo può essere una brasatura, una saldatura. Inoltre ad oggi non c'è una normativa armonizzata tra quelle esistenti a cui fare riferimento per la conformità nel momento in cui si va a progettare lo scambiatore. Ovviamente le due normative principali di riferimento, la EN 378 e la IEC 6335 sono delle linee guida ma da sole non sono sufficienti o non sono state completamente riconosciute dai comitati tecnici. Ecco che quindi comunque come costruttori di scambiatori di calore siamo comunque tenuti a fornire un prodotto idoneo e sicuro e in mancanza di una normativa a cui fare riferimento l'UVE comunque ha deciso di muoversi in anticipo scegliendo di fare innanzitutto un'analisi dei rischi derivanti dall'utilizzo di questi refrigeranti infiammabili mettendo in campo tutta una serie di test e prove in verifica di questi requisiti e ha sottoposto tutte le scelte tecniche alla TUF Italia, metodo oggi senza alternative considerando appunto l'attuale stato normativo. La TUF Italia ha valutato la correttezza delle scelte e ha espresso un parere tecnico positivo che ha confermato il soddisfacimento dei requisiti di salute e sicurezza, in particolare il RES 1.5.6 che è relativo all'incendio e l'1.5.7 relativo all'esplosione. Ma vediamo nel dettaglio cosa abbiamo fatto per rendere appunto gli scambiatori di calore idonei all'utilizzo con A2L e propano. Innanzitutto abbiamo provveduto a ridisegnare le tubazioni degli scambiatori considerando solo giunzioni saldate o saldo brasate senza prese di pressione o rubinetti, quindi senza elementi apribili. E quindi la possibile sorgente di emissione è di secondo grado. Naturalmente all'interno della propria vita lo scambiatore può essere comunque soggetto a perdita, si possono verificare delle micro perdite dovute a usura, dovute a corrosione o a rottura della saldatura nel caso di un'errata movimentazione e quindi si può in maniera remota generare una presenza di gas che se si combina con la probabilità di altre sorgenti di innesco che possono diventare attive può generare rischio di esplosione o di incendio. Ecco che quindi questo ci ha riportato anche a riconsiderare la componentistica elettrica che noi abbiamo a bordo macchina, in particolare i motori, quindi nel caso di utilizzo con A2L e Propano, gli nostri scambiatori portano a bordo motori elettronici Atex adatti alla zona 2 oppure dove non è stato possibile trovare una soluzione Atex abbiamo fatto testare esternamente i ventilatori elettronici standard che hanno rivelato un buon comportamento con assenza di scintille e di altri possibili inneschi. Per quanto riguarda lo sbrinamento elettrico, esso è consentito solo per i fluidi elencati nello standard internazionale IEC 6335 e prevede l'utilizzo di resistenze elettriche corazzate che è già il nostro standard con una temperatura massima superficiale non oltre i 700 gradi. Mentre per l'R290 abbiamo provveduto al depotenziamento delle resistenze elettriche in modo da portarle ad avere una temperatura superficiale massima di 370 gradi centigradi che sono ben 100 gradi al di sotto della temperatura di autoaccensione del propano, quindi il tutto fatto seguendo il principio della massima cautela. Ultima accorgimento, accortezza che abbiamo adottato, le scatole di derivazione a cui sono cablati i motori e le resistenze elettriche nel caso di sbrinamento elettrico sono situate sul lato opposto alle saldature e quindi lontano da eventuali punti di perdita localizzata e sono costituite solo da morsettiere, quindi non sono in grado di generare scintille. Tutte le macchine progettate per A2L e propano riportano un'etichettatura macchina dedicata, quindi il manutentore, l'installatore che si trova a lavorare con una macchina utilizzata con A2L e propano può visivamente e immediatamente rendersi conto da questa etichettatura di che macchina ha di fronte, oltre al fatto che ogni macchina è provvista di manualistica dedicata, quindi alla manualistica standard abbiamo aggiunto delle prescrizioni ulteriori al fine di limitare il rischio, indicazioni su come immagazzinare, trasportare e maneggiare appunto il prodotto. Tenendo conto di tutti questi aspetti l'Uve Group quindi ha sviluppato una gamma completa e dedicata di aerovaporatori commerciali, specificamente appunto per i refrigeranti A2L e propano, nel caso degli A2L, utilizzabile con gli refrigeranti che vedete elencati qui. Sono macchine disponibili sia in versione singolo flusso che doppio flusso che angolari, hanno una capacità compresa fra 1 kW e un massimo di 20 kW di potenza frigorifera e sono facilmente anche riconoscibili già dalla sigla del prodotto in quanto la gamma dedicata agli A2L riporta la sigla S, la lettera S davanti al nome del modello, S sta per safety, quindi sicuro, mentre la gamma dedicata per il propano riporta appunto la lettera P. sono proprio gamme esclusivamente dedicate a questi refrigeranti e sono già disponibili nel nostro software di selezione, quindi sono facilmente individuabili, selezionabili ed ordinabili. Avviandoci alla conclusione ci troviamo di fronte a limiti stringenti imposti dall'Unione Europea che portano ad un sempre maggiore utilizzo di refrigeranti A2L e idrocarburi, quindi l'importante è essere pronti ad affrontare queste nuove sfide. Nonostante la mancanza di una norma precisa e armonizzata, l'Uwe Group comunque si è mossa d'anticipo ed ha già effettuato analisi tecniche e test di laboratorio ed ha già ottenuto una validazione delle scelte tecniche dall'ente TIUF Italia, ecco che quindi i prodotti del Gruppo L'Uwe sono già pronti a soddisfare queste esigenze del futuro. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di avervi dato degli spunti e delle informazioni utili. Perfetto, grazie Federica per l'intervento. Allora, procederei subito con le domande che ci sono arrivate, anche perché siamo perfettamente on time, sei stata un metronomo come da questo punto di vista. Allora, vediamo un attimo, come dicevo prima c'è sempre il problema della chat che si intasa un pochettino. Una prima domanda che c'è arrivata è, l'ADIA2L indica che non sono tossici, corretto? Sì, c'è una combinazione tra livello di tossicità e livello di infiammabilità nella descrizione, sì. Perfetto, ci chiede poi Francesco se fate tutte le macchine in questo modo da adesso in avanti del momento in cui i refrigeranti saranno infiammabili. Beh, diciamo che questo è un primo step che ci ha portato appunto a prendere queste accortezze proprio in funzione dei refrigeranti utilizzati. Dopodiché, ovviamente, in funzione del futuro, siamo sempre in continua ricerca e in continuo studio per proporre nuove soluzioni. Comunque, al momento, questa è proprio la serie dedicata e specificamente studiata per l'utilizzo di questi refrigeranti. Ok, c'è una domanda di Alex molto interessante che però mi terrei per il dibattito conclusivo e così poi paghiamo magari spazio per discutere tutti insieme perché secondo me è una domanda che diventa più interessante in quel contesto. leggo ancora la domanda di Giulio che ci chiede nel vostro manuale spiegate come installare e montare i condensatori che usano propano e in quali ambienti possono essere posizionati? Beh, diciamo che innanzitutto è importante specificare che le unità, in questo caso stiamo parlando di evaporatori ma anche i condensatori standard, sono state studiate con tutte le accortezze per non diventare delle fonti di innesco. Quindi per rendere la macchina il più sicura possibile. Se poi la domanda intende dire se possono essere installate in aree ATEX, lì si apre un altro mondo ovviamente perché la normativa ATEX prescrive una componentistica specifica, certificata e l'area anche in cui va installata la macchina deve essere denominata ATEX. Tornando al tema di oggi stiamo parlando di aeroporatori commerciali che vanno principalmente su celle e quindi in aree che non sono classificate di per sé ATEX. Pensiamo a una cella di conservazione di frutta, della verdura, della carne, del pesce, quindi l'area di per sé non è considerata ATEX. Ok, quindi c'è anche un contesto che va a influenzare quello che poi come sempre il tecnico deve anche essere in grado di, qua giochiamo un po' in casa come centro studi, il tecnico deve anche essere in grado, e questo lo fa con la formazione e imparando sul campo, di discernere un attimo quale situazione richiede quale strumento. Al di là delle normative che ovviamente sono stringenti e vincolanti, però diciamo che ci sono contesti nei quali è meglio che il tecnico sia, come posso dire, pronto a utilizzare gli strumenti a sua disposizione correttamente senza aver chiaro utilizzare lo strumento sbagliato nel contesto sbagliato, perché ovviamente soprattutto quando si parla di intermabili può essere una condizione poco verdevole. Federica, io ti ringrazio al momento per la tua partecipazione. chiedo a Erika di raggiungerci, Federica mi raccomando resta con noi perché poi avremo bisogno di te per il dibattito conclusivo. Erika, benvenuto. Grazie Alberto, grazie Federica per l'intervento, e grazie al Centro Studi Galileo per questa opportunità. Allora, passiamo alla presentazione. Allora, diciamo che la presentazione che vado a tenere oggi si collega appunto all'installazione e alla manutenzione, aspetti che sono trattati anche nel nuovo regolamento F-Gas e andrò in questo intervento a trattare le unità silenziate per le celle frigorifere in quanto sono l'applicazione più diffusa nei vari settori, sia nel food retail che nell'oreca per quanto riguarda la refrigerazione di derrate alimentari. Quindi una buona progettazione di queste applicazioni può semplificare la vita degli installatori e dei manutentori di queste unità. Questa è l'agenda del mio intervento. Andrò a introdurvi brevemente l'azienda e poi vi darò alcune informazioni sulla macchina di Embraco che prenderò come esempio. Andremo a vedere alcuni aspetti ancora più specifici sul nuovo regolamento F-Gas e poi andremo ad analizzare alcuni aspetti di progettazione per semplificare la manutenzione. Allora, giusto un breve accenno all'azienda che rappresento. Io rappresento la NIDEC Global Appliance che è suddivisa in due business unit. In particolare io rappresento la Commercial Appliance che è nota per commercializzare il brand Embraco per compressori e unità di condensazione. NIDEC Global Appliance fa parte di un gruppo internazionale con più di 110.000 dipendenti fondato nel 1973 con più di 16 miliardi di fatturato. Andiamo quindi a vedere l'applicazione di cui vi parlerò oggi che è l'unità di condensazione Bioma che è una condensing unit disponibile per tutti i più comuni refrigeranti come l'R452A, l'R448A e l'R449A ed è disponibile in tre taglie che è un'unità monoventula e che può coprire delle cooling capacity fino a 10 kilowatt in media temperatura. Indicativamente si va a proporre per celle frigorifere fino a 80 metri cubi in media temperatura. e diciamo che è un'unità silenziosa con un design robusto e che utilizza i compressori Embraco ad alta efficienza per ottimizzare la refrigerazione. Ecco, un punto importante che è stato accennato prima dall'ingegner Buoni è che queste unità devono essere scelte e calcolate in maniera corretta perché altrimenti è molto facile con i fattori che vanno ad agire su queste unità incrementare anche del 10-20% i consumi energetici. Quindi Embraco fornisce un software per poter calcolare il fabbisogno della cella frigorifera sulla quale si va a installare una unità di condensazione per poter minimizzare i consumi dell'applicazione finale. Parlando delle caratteristiche tecniche dopo andremo a vedere nella seconda parte dell'intervento come queste funzioni questi componenti sono accessibili comunque nella configurazione standard la Bioma presenta un compressore ermetico che può essere scroll o reciprocating l'iniezione di liquido nelle versioni a bassa temperatura ricevitori di liquido spia del liquido valvole di servizio presso ostati filtro condensatore a pacco alettato un motore elettrico a 6 poli per il ventilatore e con controllo di velocità nonché tutto il quadro elettrico completo per l'installazione elettrica nonché è completamente isolata dal punto di vista del rumore andiamo ora a vedere il nuovo regolamento FGAS 573-2024 e diciamo che come la sua precedente versione che va ad abrogare il 517-2014 è sempre presente una corposa parte che riguarda la installazione e manutenzione delle applicazioni operanti con FGAS e voglio anche io ricordare che tutte le operazioni su unità di refrigerazione devono essere eseguite da personale certificato come ha illustrato l'ingegner Buoni vorrei focalizzarmi un attimo sull'articolo 5 presente nel regolamento che riguarda i controlli delle perdite i controlli delle perdite sono un'attività di manutenzione periodica obbligatoria e il regolamento va a dare precise indicazioni a seconda che l'unità o l'impianto siano dotate o no di un sistema di rilevamento delle perdite e va a categorizzare le macchine e i sistemi a seconda della carica di refrigerante diciamo per le applicazioni di cui vi sto parlando quindi c'è le frigorifere di piccole o medie dimensioni il controllo delle perdite deve essere eseguito al minimo una volta ogni 12 mesi perché diciamo che la carica di refrigerante è sicuramente inferiore ai 10 kg o alle 50 tonnellate di CO2 equivalenti l'articolo 7 del regolamento FGAS chiaramente chiede di tenere al traccia e di compilare un registro per le attività che sono eseguite e nei registri devono essere indicati anche le quantità di gas recuperati o aggiunti e l'unità se ben progettata può facilitare le operazioni di cui all'articolo 5 di cui vi ho parlato e quindi diciamo che nel complesso anche soddisfare l'articolo 7 può essere un'operazione molto rapida detto questo andrei ad analizzare alcuni aspetti progettuali della bioma per far capire come si possa adempiere a quelle che sono le prescrizioni del regolamento F-Gas in maniera semplice grazie all'attenta progettazione allora un primo aspetto è diciamo collegato all'ergonomia della macchina perché molto spesso si hanno applicazioni sia in bassa che in media temperatura e l'unità di condensazione bioma è stata progettata per essere impilabile in questa maniera si ha un risparmio di spazio per l'impronta terra ma anche è più semplice ed ergonomico poter agire per le attività di manutenzione per quanto riguarda l'accessibilità si sa che queste applicazioni devono rispettare la direttiva macchina quindi per poter accedere agli organi in movimento oppure alle parti elettriche è necessario l'utilizzo di un utensile di solito si usano viti o altri sistemi di bloccaggio l'unità bioma è stata progettata invece per poter utilizzare una chiave che è se stessa un diciamo attrezzo che presuppone la consapevolezza di poter accedere alle parti in tensione o in movimento però a differenza di altri tipi di fissaggio come le viti permette di come dire aprire gli sportelli di manutenzione con una sola operazione e quindi diventa molto più veloce poter aprire le porte di cui è dotata l'unità di condensazione qua vediamo nel dettaglio le sportelli le porte di cui è dotata bioma sono ben tre e vi è una porta che è dedicata al condensatore e al ventilatore un'altra porta che è dedicata al compressore e ai presostati alla valvola schrader rota lock e una terza porta che permette di accedere al quadro elettrico al filtro alla spia del liquido e a un'altra valvola schrader come vi dicevo l'articolo 5 del regolamento FGAS richiede un controllo periodico delle perdite potendo accedere a tutte le brasature presenti nell'unità e grazie alle porte questo controllo può essere eseguito in pochi in pochi minuti e grazie all'apertura delle porte è altrettanto facile ripristinare il livello di refrigerante qualora fosse necessario una delle operazioni più comuni nel caso di manutenzione di unità di condensazione è la sostituzione del filtro di idratatore e anche qui le unità di condensazione in particolare bioma è progettata per poter sezionare tramite valvole rotalock l'intera linea del liquido in questa maniera è molto più scusatemi è molto più veloce eseguire il vuoto agendo solamente sulla parte che è solamente sulla linea del liquido e questo permette di poter eseguire l'intervento di sostituzione del filtro in circa 45 minuti operazione che solitamente richiede considerando l'esecuzione del vuoto nel sistema circa due ore per quanto riguarda invece l'efficienza e l'abbattimento dei consumi di unità di condensazione è fondamentale la pulizia del condensatore operazione che deve essere eseguita regolarmente e che talvolta su unità di condensazione è particolarmente difficile qua invece potendo accedere al condensatore frontalmente aprendo la porta del ventilatore visto che il flusso d'aria su bioma entra dalla parte posteriore dell'unità di condensazione e quindi la polvere e lo sporco si accumulano sull'esterno dell'unità sulla parte posteriore aprendo lo sportello anteriore è possibile agire con dell'aria compressa e pulire il condensatore in tempi rapidissimi inoltre non solo è necessario fare manutenzione ma è importante anche prevenire l'accumulo di polvere questo è possibile da parte della progettazione in quanto bioma è stata dotata di un regolatore di velocità basato su un sensore di pressione in questo modo l'accumulo di polvere viene minimizzato da una velocità dell'aria che non supera mai 1,7 metri al secondo faccio infine un accenno all'affidabilità della macchina perché anche questo è un aspetto per minimizzare gli interventi giusto per fare un accenno l'unità di condensazione è stata dotata di un crankcase heater che consente di evitare e al refrigerante allo stato liquido di allagare il compressore come può succedere alle basse temperature ambientali in questo in questo modo si evitano i danni del foaming dell'olio e si può garantire l'affidabilità della macchina considerando tutti gli aspetti di progettazione quindi un'unità di progettazione con soluzioni tecniche idonee può drasticamente ridurre le tempistiche necessarie a eseguire i requisiti le prescrizioni del regolamento FGAS stimando le tempistiche di intervento tipiche si può vedere come un'unità con le caratteristiche che vi ho presentato permette di eseguire le operazioni tipiche di apertura scocca pulizia condensatore e controllo perdite in circa un'ora mentre un'unità di condensazione tradizionale potrebbe richiedere fino a tre ore e quindi è possibile abbattere i tempi di intervento di circa il 65% e il mio intervento si conclude qua e vi ringrazio per l'attenzione perfetto ti ringrazio Eric per per l'intervento e allora abbiamo qualche domanda che secondo me può essere può essere interessante prima di passare poi al dibattito al dibattito conclusivo innanzitutto partirei da quella di Emanuele che ci chiede se esistono modelli nati per l'utilizzo di gas a2L a basso gvp come R454C attualmente no però a breve ci saranno delle novità quindi invito il signor Emanuele a rimanere in contatto con le newsletter di Embraco perfetto ogni tanto noi pubblichiamo anche qualche qualche news che ci arriva da Embraco su Industria Formazione che seguo sempre a tutti di seguire di lasciare un follower così insomma è un altro canale per restare aggiornati leggo la domanda di Chimona che ci chiede ora con la nuova IEC 60335 289 si può arrivare a 500 grammi di propano lo consigliate? allora la IEC 60335 289 è una norma che riguarda i sistemi self-contained e quindi non è applicabile alle unità di condensazione per le unità di condensazione la norma di riferimento è o la 60335 tratto 1 quindi la parte generale la 240 eventualmente per sistemi in media temperatura però diciamo che la norma più indicata a livello europeo è la N378 tratto 2 che è armonizzata con la direttiva macchina quindi diciamo che sarebbe un errore poter applicare la 60335 289 a questa tipologia di di apparecchiature ok quindi in sintesi no no non si può valutare il propano su sistemi che non non siano ermetici perfetto allora una domanda molto simile a quella che era stata formulata nell'assessore di Q&A precedente sempre in riferimento ai manuali di installazione e montaggio dei condensatori che usano porpano i manuali aiutano a capire quali sono i luoghi idonei per per montare i prodotti quindi evitare le zone confinate gli spazi delimitati che discorrendo allora vai vai Eric poi ah si è una domanda diciamo che hanno posto anche a te Federica diciamo che i manuali i manuali prevedono come debba essere l'installazione di un'unità diciamo per consentire un adeguato flusso d'aria dall'altra parte per installazioni specifiche che vanno come dire a prima si parlava di Atex piuttosto che di altre situazioni specifiche in quel caso bisogna valutare il rischio quindi la procedura sicuramente è diversa non può essere contemplata in un manuale che riguarda solamente un'installazione a livello generico per una zona non pericolosa non so se ho risposto alla domanda diciamo che sono argomenti che interessano molto i tecnici perché insomma preferisco andare come posso dire un po' con i piedi di piombo soprattutto adesso che si parla di refrigeranti che prevedono delle sfide un pochettino particolate rispetto a quelle precedenti sono sfide che ovviamente vale la pena affrontare anche per un discorso di salvaguardia ambientale oltre che di evoluzione tecnica del settore però insomma ovviamente c'è da fare un attimo di attenzione in più direi a questo punto che possiamo sono le 5 ma abbiamo ancora 80 partecipanti abbiamo toccato un picco di 105 prima per cui questa è un'ottima un'ottima cosa direi che possiamo passare al dibattito conclusivo perché abbiamo alcuni punti che secondo me sono interessanti da analizzare da analizzare insieme in particolar modo subito in apertura di webinar ci è arrivato un un commento di Alex che ci ha scritto un commento essenzialmente per quali attrezzature e quali recuperatori pompe del vuoto esistono una netta differenzazione tra un sistema adatto per A2L ad esempio la 32 e un sistema adatto per refrigeranti A3 ad esempio le 290 solo le attrezzature adatte per lavorare con A3 sono certificate ATEX la differenza dovuta alle differenti energie di unesco calore combustione velocità della fiamma si chiedeva come mai questo concetto non fosse applicato anche agli scambiatori di calore che hanno caratteristiche se ben compreso simili per quello che riguarda 2L e A3 una domanda un po' lunga forse come impostazione però secondo me era interessante vedere il punto di vista sia di di lube che di embraco quindi l'abbiamo tenuta un attimo in serbo per la conclusione sì allora per quanto riguarda lo scambiatore di calore in realtà pur avendo delle accortezze delle componentistiche simili in realtà lo scambiatore per A2L e per A3 non sono esattamente identici infatti per gli scambiatori per propano abbiamo provveduto per esempio sul tema delle resistenze a depotenziare la potenza della resistenza elettrica proprio perché l'energia di innesco del propano è diversa quindi la temperatura massima ammissibile di quelle superficiali di quelle resistenze è più bassa sul fronte ventilatori pur essendo lo stesso componente che viene usato sia su scambiatori per A2L che per A3 proprio per il principio della massima cautela di cui abbiamo parlato prima il ventilatore è lo stesso perché quello utilizzato sul propano è proprio quello più restrittivo e quindi è ok anche per la versione A2L Perfetto Erik un commento sull'argomento Io faccio presente che comunque queste applicazioni sono tutte coperte da standard di prodotto ne abbiamo nominati alcuni specialmodo la N378 tratto 2 che coprono anche l'aspetto di brasatura dei sistemi specificando le leghe le temperature di fusione e quindi il modo più semplice per coprire questi aspetti è fare riferimento alle norme europee Perfetto come prima gioco un attimo in casa noi ovviamente siamo un centro di formazione e faccio un po' di posso dire di auto di autopromozione nel senso che il tecnico deve anche essere debitamente formato come dicevamo anche prima per poter operare in un contesto come quello nuovo per cui se il tecnico non è pronto non è debitamente formato tutto questo discorso diventa ovviamente meno come posso dire meno meno efficace perché la persona che va effettivamente a andare sull'impianto non ha poi le competenze per gestirlo al meglio per cui il nostro consiglio è che ovviamente la persona che va a mettere mano sull'impianto abbia tutte le competenze per farlo nel modo corretto è arrivata una domanda da parte di Antonio che abbiamo vogliamo un attimo tradurla perché è arrivata in inglese ah hai due nozzi si non vedo unità di CO2 ammoniaca ho una domanda per l'Uve ed Embraco come mai le piccole unità fino a 40 kilowatt avranno sicuramente dei refrigeratori che ne avranno bisogno e le soluzioni eh auto e mobili per risolvere per risolvere il problema delle unità PFAS un attimo che non è semplicissimo da tradurre eh in l'automobile solution per risolvere il problema delle tapifas i compressori DC e ehm il propano raffreddamento indiretto o eh la eh sostenibilità dell'idrogene eh vorrebbe insomma un un parere sull'argomento perché sia una domanda tra l'altro trattata da una lingua all'altra più volte per cui forse è un attimo eh è un attimo meno semplice individuare un attimo qual è la questione però essenzialmente parliamo quindi di unità sotto i 40 kilowatt eh che potrebbero quindi avere bisogno di chiller a CO2 a CO2 ammoniaca da questo punto di vista l'uva e in braco possono fornire qualche soluzione? Allora sul fronte eh evaporatori condensatori o meglio gas cooler se parliamo di CO2 eh noi possiamo fornire eh una gamma completa sia per ammoniaca che per eh CO2 quindi oggi ci siamo diciamo focalizzati sulle soluzioni per 2L e propano in quanto questo era il tema ma eh ciò non significa che eh non abbiamo altre gamme dedicate ad altri refrigeranti in particolare la CO2 è il cavallo di battaglia eh del gruppo l'Uve l'Uve lavora con la CO2 da anni e quindi può proporre veramente svariate soluzioni sia per la refrigerazione commerciale che per la refrigerazione industriale sia per installazioni indoor che outdoor e anche per climi eh veramente estremi tanto per darvi un'idea eh abbiamo esportato unità per CO2 anche in Australia ok quindi con temperature ambientali piuttosto piuttosto importanti è un problema che noi adesso abbiamo fatto diversi corsi a Dubai diversi corsi in in Nord Africa in Centro Africa ed effettivamente le temperature ambientali sono ovviamente un ostacolo tecnico abbastanza eh abbastanza importante perché ovviamente cambiano una serie di parametri che qua invece possiamo dare praticamente per scontati eh in altri climi invece non sono non sono ovviamente semplicissimi da da gestire Eric puoi aggiungere qualcosa lato lato Embraco eh voglio appunto ribadire come ha fatto Federica che è come dire la domanda esula un po' da quello che era lo scopo del webinar di oggi che riguardava la manutenzione eh in conformità all'Efgas eh è chiaro che guardando ad altre soluzioni al di sotto dei 40 kilowatt io vorrei solamente dire che Embraco è stata l'azienda pioniera nell'introduzione degli hydrocarbons quindi del propano nella refrigerazione e che quindi il refrigerante per il quale Embraco fornisce più soluzioni dopo è chiaro che ci troviamo anche in un momento storico dove un regolamento appena stato pubblicato dove ci sono tanti movimenti nel nel settore quindi è chiaro che andando a vedere ogni segmento specifico ci sono delle dinamiche proprie perfetto allora c'è un'altra domanda però eh questa è molto specifica per Erich da parte di Bruno quindi direi che magari la giriamo poi via mail perché qua andiamo un po' sapete che noi non mantenevamo una linea sempre neutra quando andiamo un po' tanto sul commerciale direi che ce la teniamo poi per un contesto più ehm più privato ma giriamo la domanda ovviamente poi dopo a Erich in separata sede io ringrazierei a questo punto sia Federica che Erich per la per la disponibilità siamo andati lunghi dieci minuti però direi che gli argomenti sono sono stati estremamente interessanti ovviamente potranno poi essere rivisti nella registrazione di questo di questo webinar eh colgo l'occasione per invitare tutti quanti il 26 giugno a prendere parte a un evento che è importantissimo per il nostro settore ne abbiamo parlato all'inizio che è la giornata mondiale della della refrigerazione un evento sicuramente importante perché è un po' una celebrazione di tutto quello che noi facciamo di un settore che credo che insomma Eric e Federica possano confermarlo è un settore che è dappertutto e molto spesso non si vede cioè facciamo un rapido elenco di posti nei quali c'è refrigerazione c'è condizionamento ma non ma non ma la gente spesso non lo sa cioè internet non potremmo usarlo senza refrigerazione perché senza data center internet non funzionerebbe altro supermercati supermercati il condizionamento delle nostre case degli edifici civili industriali quindi la produzione di energia elettrica quindi il raffreddamento di processi industriali all'interno delle centrali di produzione di energia elettrica quindi le applicazioni sono veramente svariate anche solo nei cebulari che usminano tutti i giorni il raffigerante dentro c'è alcuni tempi non potrebbero non potrebbero non potrebbero funzionare tu Erika hai qualche esempio che ci tieni a condividere perché so che un po' tutti gli addetti lavori hanno hanno il punto che tendono sempre a specificare io farei l'esempio proprio più più banale insomma andando al supermercato vediamo la raffigerazione dappertutto nei cabinet e diciamo quando andiamo nel reparto dei solgelati e quello è proprio l'esempio tipico oppure anche solamente il frigorifero che abbiamo a casa ed è una cosa che vorrei dire insomma è che la raffigerazione fatta con il ciclo compressione a vapore alla fine sono cent'anni che è fatta in questa maniera che cerchiamo sempre di ottimizzarla per rendere questo sistema che è stato inventato cent'anni fa circa è sempre più efficiente e performante esatto noi tra l'altro centro centro è nato a Casale anche perché Casale è stata una delle prime città è stata una delle prime città a sviluppare un distretto del freddo che attualmente è in fase di crescita e di rilancio e insomma per l'Italia fu qualcosa di incredibile perché insomma uno si aspettava che nascesse magari in uno dei centri un pochettino più grossi mentre invece Casale fu uno dei primi i primi poli a poter inventare questa cosa poi negli anni negli anni settanta visto che Casale era tra l'altro metà strada e il centro di un triangolo ideale tra Torino Genova e Milano il nostro fondatore il dottor Buoni collaborando con l'università fondò questo centro di formazione per mettere proprio un ponte tra le aziende le università le aziende che avevano bisogno insomma di quelli che poi sarebbero diventati moderni frigoristi per poter partire e poter effettivamente avviare la propria la propria attività in chat vi ho lasciato a tutti quanti i link a descrizioni della giornata moderna della recuperazione che sarà un evento gratuito a Torino quindi dunque voglio venire Erick se non sarai negli Stati Uniti Federica anche tu ovviamente a noi fa assolutamente piacere per rispondere all'ultima domanda che è arrivata sì come sempre la registrazione sarà disponibile nei prossimi giorni manderemo poi anche le slide alle persone che hanno preso parte all'intervento all'intervento odierno e ringraziamo tutti quanti per la partecipazione ringraziamo Erick ringraziamo Federica tutto il gruppo tutto in Braco grazie a voi e direi che vi aspettiamo al World of Futuration Day e ai prossimi webinar continuate a seguirci sui social seguite Google seguite in Braco e ci vediamo presto grazie a tutti a rivederci a presto grazie 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 grazie